E adesso cosa dobbiamo attenderci più da questa stagione? Dopo l'ennesimo addio stavolta consentiteci di commentare davvero pesante delle tre colonne portanti Nello Grasso da decenni, Carmelo Messina da qualche anno, Pino Fichera che era tornato dopo grandi esperienze maturate in altre piazze, dicevamo cosa attendersi. Ieri sera abbiamo contattato telefonicamente il tecnico della squadra, Mr. Salvo Pennisi, che ci ha chiaramente detto che non esiste più il benché minimo presupposto per proseguire. Oggi pomeriggio ci sarebbe la seduta di allenamento al Tupparelle ed usiamo il condizionale perché non è proprio dato sapere al momento chi guiderà i pochi calciatori di Masti, chi preparerà la trasferta in casa del comprensore normanno. A proposito, questi gli arbitri. Città di Messina, Agropoli, Giuliani di Teramo, comprensore Montalto noto, si gioca oggi, Gironda, Veraldi di Bari, comprensore normanno a Ciriale, Serrani di Monza, Gelbison, Cosenza, Bertane di Pisa, Palazzolonissa, Meraviglia di Pistoia, Procavese Licata, Fabbro di Romaduer, Ribera Savoia, Dapice di Arezzo, Sambiase Messina, Proietti di Terni, Vibonese Ragusa, Sommese di Nola. Ma la domanda delle domande è che senso ha a continuare? Il silenzio assordante che arriva dal vertice societario dopo le dimissioni dei tre pilastri Granata non ci dice nulla di buono. E allora, se proprio la Ciriale Calcio deve morire, basta agonia, fateci morire in pace.